questo qui va a giro sto ascoltando Giuse perché siamo ai saluti Giuse che cazzo sta succedendo Giuse siamo ai saluti Marotta ha detto grazie Zang per quello che hai fatto siamo ai saluti ecco siamo ai saluti arriverà il comunicato ma voglio dire una cosa, voglio perculare al milanista lì, a Gio Gio, benzinaio ma che cazzo mi fai questi video cosa succede all'Inter tu non li devi fare questo video ma pensa al tuo caos Stella ma la storia finanza ma com'è finita la storia finanza ma che cazzo fai questi video Gio ma sei fuori, ma che cazzo vuoi ma pensa al tuo caos che non sei di chi sei almeno io so che fino a ieri ero cinese tu di chi cazzo sei che cazzo mi fai questi video un po' di rispetto per quelli della seconda stella qua Stella ehi ehi un po' di rispetto giù la testa fai un video caos del milan eh fallo fallo perché succederanno cose non turche cose abzeche come si dice Stella che cazzo mi fai l'Inter ma che cazzo vuoi pensa al tuo milan fai qualcosa sul tuo milan Giusep Giusep si Giusep stavo scusando Giusep vai vai Giusep vai Giusep falli a pezzi Giusep sulla sostenibilità sulla sostenibilità sulla sostenibilità falli a pezzi maremma bucaiola falli a pezzi dai tutti tutti